La suggestiva chiesa di Sant'Agostino a Pietrasanta, fatto da splendida e perfetta cornice per il concerto per pianoforte del maestro Sandro Ivo Bartoli dal titolo Mitorai, mito e musica. Il gran coda, posizionato al centro della chiesa, circondato dalle gigantesche opere del maestro recentemente scomparso, sono stati gli ingredienti estetici del meraviglioso concerto organizzato nell'ambito del 61esimo Festival Puccini. Poi le note che hanno accompagnato i presenti in un viaggio variegato da Bach Busoni a Ravelle. La seconda parte del concerto è stata interamente dedicata all'Iz per oltre un'ora di musica di altissimo livello. Il concerto è molto bello, tra l'altro la particolarità che c'erano due pezzi soli scritti proprio per il pianoforte, gli altri erano tutti o trascrizioni o pezzi più famosi nelle versioni orchestrali, sicché è stata per me una bellissima esperienza, non avevo mai suonato in questo posto così bello e poi insomma diciamocelo quando c'è di mezzo il Festival Puccini per noi è un onore collaborare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!